Se non devo usare parolacce per investire, io sì, quindi fottetevi tutti. Eh, vedi, ragione, è una grande analisi di se stessa. Poi gli ha risposto. Con un brutto ammettere. No, no, gli avrà detto qualcosa di più. Forse è Mr. Nice Guy, se non è, però vi prego, scontatori, aiutatevi. Sì, no, in fronte, pensavo che il ficeo programmazione mi si è scelto questa canzone, perché a un certo punto... Ma noi abbiamo essenzialmente, con un doppio ammettere. Tra poco i vici e i caratteri. Ci spiace veramente tanto. E anche se in realtà puoi essere un po' più specifici, forse anche meglio così, perché alcune dinamiche, alcune... I feel at home When you're safe and sound I wish time would stop Like suspended animation In realtà puoi essere un po' più specifici, per se anche meglio così, perché alcune dinamiche, alcune di se stessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I feel at home when you're safe and sound. I feel at home when you're safe and sound. I feel at home when you're safe and sound. I wish time would stop like suspended animation. I feel at home when you're safe and sound. I feel at home when you're safe and sound. I feel at home when you're safe and sound. I feel at home when you're safe and sound. I feel at home when you're safe and sound. I feel at home when you're safe and sound. And I feel at home when you're safe and sound. I feel at home when you're safe and sound.